E' la Lego Fan, benvenuti! Continuiamo la serie giungla con questo piccolo set 60156. Abbiamo già visto altri due set della linea giungla, sono lì in sottofondo e sono il 6158 elicottero da carico della giungla e poi abbiamo lo starter set della giungla, già recensiti sul canale, andate poi a trovarli. Ok, facciamo questo let's build di questo piccolo set, come dicevo è il set più piccolo della serie, un costo di 6 euro, il buggy della giungla, 53 pezzi, una sola minifigura. Ok, io devo andare subito all'apertura, ecco qui questo è il set davvero piccolino. E' al montaggio, così poi da aggiungerlo alla nostra collezione. Ok, vediamo magari se riusciamo a montarlo. Il bel test è sicuramente microscopico, c'è qualcosina, sì, Lego World e nient'altro. Ok, io direi di passare subito al montaggio, la cattura delle buste, e voilà. Ecco, c'è un pezzo che io non avevo mai visto, non so se è completamente nuovo, ma non ho ancora fatto una ricerca, e questo qua. Lo trovo davvero, davvero, è in plastica dura, vedete? Lo trovo molto molto interessante, ne sono già usciti praticamente tre, anzi quattro, due per questo set, uno per quello e questo è il quarto. Può essere utilizzato tranquillamente per costruire delle... MoC, o qua, sistemiamo un pochino la videocamera. Ok, prima cosa da fare, come sempre in questi casi, è la minifigura. Ovviamente, la cosa che mi piace costruire prima di tutte, ha il berretto, bello pure il colore di questi berretti, è già il terzo che, come potete vedere, uno qui o nell'altro set. E poi, l'altra particolarità è il macete, ovviamente. Novità di questa serie. Macete, eccolo qui. Bellissimo. Qui, questo qua, lui ha anche il binocolo, come accessorio. È perfetto per la giungla, e dovrebbe essere... No, non è lui, per la giungla. Eccolo qua. Ok, l'idea è di continuare velocemente, altrimenti, anche se è un piccolo set, questo video durerà secoli. Ora, ho già detto che sono 53 pezzi, quindi davvero piccolissimo, visto il costo. Ah, altra pure particolarità è la presenza di questi ragnetti. Già erano usciti in diversi set telecom, ma non con questo design. Sono davvero spaventosi. Ok. Continuiamo con la costruzione del buggy. Eccolo qui. Eccolo qui. Mettiamo le luci. Ovviamente. Ovviamente. Poi qui abbiamo il simbolo della serie. Questo leopardo, o che pardo. Sono diversi, però non so di preciso. Può fare qualche ricerca ulteriore. Un po' alla volta prende, prende forma. Ah, pure questo pezzettino qui è molto particolare. Poi anche di questo valore, non so se era mai uscito. Mi verrebbe da dire di no. Ok, montiamo le ruote. Molto molto carino. Se questo è l'effetto finale del buggy, è davvero davvero assolutamente carino. Quindi da aggiungere alla collezione. Eccolo qua. E poi c'è un piccolissimo ovviamente playset. che ecco, da aggiungere alla giugola. Ce ne sono già due nei vari set. Questo è il terzo. E quindi poi, man mano, è possibile davvero costruire un playset molto più grandicello con tutti i vari elementi. E qui abbiamo il diamante. Ovviamente sono sempre esplorazioni. Qui è presente il diamante. Lì sono presenti dei lingotti d'oro. E lì è presente un calice. E un calice ovviamente d'oro così. O comunque di materiale pregiato. Quindi alla fine della spedizione ci sarà da divertirsi con tutti questi oggetti i valori recuperati. Ecco qua. Un piccolo piccolo tempio. Carino. Parliamo ovviamente sempre di un set di soli 6 euro. Se non addirittura scontato magari potete trovare anche un prezzo inferiore. E poi immancabile il ragnetto. Eccolo qua. Lo piazziamo così. Eccolo qua. Eccolo qua. Ok. Ultimato. Quindi anche in questo caso qua dei pezzi di ricambio. Ma quello più interessante di tutti è proprio l'altro macete. Ne escono sempre in più. Insomma nonostante la novità del set alla fine insomma ce ne saranno davvero davvero tanti. Eccolo qua ragazzi. Questo è il set completato. Togliamo pure. E qui di man mano come potete vedere arricchiamo proprio la serie giungla. Ok ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo set. Io trovo molto molto carino sia il buggy sia quella piccola piccolo tempio che si è creato e ovviamente un'altra minifigura con il mitico macete. Eccolo qua. Fantastico. Ok. Quindi lasciate commenti e like iscrivetevi al canale numerosi buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi buon divertimento. 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 Buon divertimento.